Uno degli esempi più alti di rigore morale che la Calabria abbia conosciuto negli ultimi anni. Luigi De Sena se ne va in silenzio, scompare all'epilogo di una malattia che non gli ha dato scampo. Il motivo per cui, ha spiegato ieri pomeriggio il governatore Oliverio, esprimendo il suo cordoglio in consiglio, aveva rifiutato la proposta di entrare nella giunta regionale. Campano, già vice capo della polizia, prefetto, super prefetto Reggio Calabria dopo l'omicidio Fortunio. Rappresentò, in una fase cruciale della storia di questa regione, il nome e il volto nobile di uno Stato chiamato a recuperare unità, oltre che credibilità, in una terra che il delitto di Palazzo Niedu e la strage di Duisburg proiettarono sulle cronache internazionali. Su invito di Marco Minniti e Walter Veltroni, allora aspirante premier, accettò la candidatura al Senato, divenendo parlamentare della Repubblica. Autorevole e mai autoritario, è stato un modello di sobrietà e di stile, capace di mantenere il contatto con i territori e la gente senza però mai dimenticare chi fosse e cosa rappresentasse e per questo sempre esemplare, sempre perfetto. Uomini così sono tra quelli che non si dimenticano.